Siamo con Nardarci del quinto A, una partita molto bella, molto combattuta, una finale sicuramente molto divertente. Voi ce l'avete fatta grazie a un ottimo secondo tempo. Sì, abbiamo giocato il primo tempo discreto, il secondo abbiamo fatto vedere le nostre vere qualità. Grazie ai mister che sono venuti da fuori abbiamo cambiato assetto e abbiamo più giocato la palla. Siamo con Pesce, sempre della squadra vincitore del quinto A, una finale davvero molto aperta, molto divertente. Voi non ci siete stati dopo esservi stati raggiunti due volte, avete dato comunque il meglio di voi nel secondo tempo. Sì, abbiamo dato il meglio di noi soprattutto grazie a bravissimi giocatori che abbiamo in squadra e a un gruppo, grazie anche a un gruppo che è molto coeso e molto affiatato. Dobbiamo dire che nonostante la squadra avversaria fosse di età inferiore rispetto alla vostra, ha venduto a caro prezzo la pelle. Sì, noi li avevamo già incontrati ai gironi due volte, perdendo due volte. Oggi siamo riscattati bene e direi che è stata una vittoria sofferta ma meritata. Grazie.